Anche in Abruzzo la campagna vaccinale anti-covid e anti-influenzale sta andando a rilento. Una condizione che preoccupa gli esperti. Covid da una parte e influenza dall'altra stanno mettendo alla prova gli italiani. Ma sarà ancora più problematico nelle prossime settimane, visto che proprio in corrispondenza del Natale è atteso un doppio picco di contagi. Sia il virus SARS-CoV-2 che quello influenzale raggiungeranno il culmine della velocità. Per questo motivo il direttore generale dell'Asri di Terao, Maurizio Igiosia, torna a ribadire l'importanza del vaccino e annuncia nuovi Open Day. Noi dobbiamo mettere in atto tutte le iniziative per far sì e incentivare queste attività che sono fondamentali sia per l'individuo ma anche per la società, per la collettività. Dopo sta la, siccome non sono vaccini obbligatori, sta la coscienza di ognuno di noi mettere in atto un comportamento adeguato per anche la situazione che si sta creando. Cioè non è che siamo ai livelli di pandemia, assolutamente, questo, ringraziando Dio, va tutto bene. Però siccome c'è una recrulescenza del fenomeno anche a livello di ricoveri, è giusto che tutte le attività di precauzione vengano messe in atto e noi ci dobbiamo attivare per questo. Per venire incontro agli utenti delle zone interne, la Asli di Terram ha messo in campo tre giornate dedicate alle vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzale, questo al distretto sanitario di base di Montorio. Gli appuntamenti, oltre alla giornata di oggi, saranno mercoledì 13 e mercoledì 20 dicembre. Le vaccinazioni, ricordiamo, saranno libere da prenotazioni. I cittadini potranno recarsi senza appuntamento e potranno essere immunizzati. Abbiamo fatto questa attività a Montorio perché tutta la zona montana era stata esclusa, cioè i vaccini venivano fatti a Casarena e un po' in tutti gli altri ristretti della costa. L'entroterra è rimasta un po' esclusa, allora abbiamo dato un segnale anche all'entroterra per incendivare le persone a vaccinarsi, per mettere anche a loro agio di evitare una trasferta a Terramo oppure in altri centri. In queste tre giornate potersi vaccinare con tranquillità, sicurezza e appunto tutto a livello gratuito senza oneri a carico. C'è il rischio che venga sottovalutato il fenomeno? Il fenomeno fino adesso è stato un po' sottovalutato. Noi possiamo dare consigli, dopo ogni cittadino comportarsi di conseguenza.